Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, quello che vedete inquadrato in questo momento è lo slot per la micro SDHC da 32 GB targata Kingston che andiamo in pratica a sfruttare in un One Touch 990, adesso andiamo a inserire la batteria, andiamo quindi a accendere il telefono, in un One Touch 990 Chrome, ok adesso ha preso l'accensione per vedere se funziona con micro SD della grandezza appunto di 32 GB. Micro SD funzionante attraverso un tradizionale adattatore su computer, usata più volte su anche altri telefoni targati Alcatel e su un Nokia N8. Andiamo quindi ad accedere al telefono, andiamo in File Manager, vedete vi dice nessuna scheda SD, eccoci qui, finalmente la giornata, a parte il credito insufficiente che ormai sarà la terza quarta volta che ci va a notificare, come potete apprezzare viene visualizzata correttamente appunto nel File Manager, pertanto questa micro SDHC targata Kingston funziona anche su questo Android. Ovviamente da questo punto in poi potete fare grossomodo quel che vi pare, potete inserirla appunto mediante il piccolo adattatore che trovate nella confezione di vinita all'interno del vostro computer per trasferire più velocemente per esempio i dati o se non volete per esempio collegare il telefono via cavo appunto al vostro computer. In ogni caso il funzionamento come potete apprezzare viene determinato corretto sia dal telefono che appunto dalla presenza in questo caso delle cartelle, pertanto questa rapida dimostrazione si può considerare correttamente completata. Il tutto termina così, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, li trovate linkati in fondo al video e se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è veramente tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo online, un saluto da Giuseppe Ragozzino.